Salve a tutti, io sono Coppa e benvenuti in questo nuovo episodio di Minigame. Oggi proveremo una nuova modalità dell'epid battle, ovvero indovinare la build. Sperando che nessuno mi interrompa. Possiamo anche pensare a fare questa build. Sono appena tornata a Blackboard. O meglio, Alex è appena tornata a Blackboard. Io l'ho annunciata un'altra perché non volevo vedere. Solo che la casa che avevo costruito con tanto impegno è stata tolta. Questo è quello che mi ha detto Alex. Ovviamente se io sto fuori dal server per troppo tempo è normale che le mie cose vengono tolte. Quelle di Kai non sono tolte, non lo so, ma i miei. Sperando che quel server riapra il survival. Ovviamente sono parlando di Blackboard. Per chi se lo chiedesse. Vabbè, questi lucani se ancora non hai iniziato a fare niente. E mi astengono a fare commenti. Così a caso. Così a caso. Sperate però. Pensa fosse Africa. Andarci qua. Lago. Sabbia. Sabbia. Oasi. Non è oasi. Non è oasi. Non è oasi. Sarà. L'esercito dell'unostritto. Non fa poco dubbio di cosa può essere. Pesca. E' feo. E' feo. Ma tocca a me. PPS3 è facile a fare un piole di scatole. Motoscafo. Spadalaser. non devo fare il blu devo fare il blu il ligno sperando che il rumore sotto il punto non ci senti porca di quello che mi raccomando non capite male tutto si mette nel regolo spero la sera ma vabbè light post a light saber o per scriverlo lì si spada però credo che sulla parola lei si ha piaciuto questo iodano ancora l'ha indovinata questo è terribile non lo so se la sua spada non potete volentare farla bene c'è 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 di questo vento la cosa di legno vaso scatola così a caso Non è? E va bene, Romani, di due lettere. Non posso capire che cos'è. Non posso mai capire che cos'è. Ma sono i fiori? Che cos'è? Forse ho capito. Forse ho capito. Com'è sta scritto, però? Piananta acchiappa mosche. E' questa. Questa era? Non è? Che cos'è? Che c'è? Non ho capito. Cosa è? Non ho capito che cos'è. Non so come sta scritto. Cosa è? Che cos'è? Cosa è? non so come c'è scritto a venere a chiappa mosca ma vaffan bagno ho capito che pianta fossero non sapevo che il nome avesse dice pixel in italiano perchè da quale cosa mi serve in italiano questo è il successivo episodio dei minigame tra l'altro è l'unica serie che porto un giovane creeper che ha fatto a 17 anni che mi ha fatto dei minigame strada a me sembra un piano forte una tastiera eh sì sembra un arto di marionette che sia a caso a me sembra un po' a me sembra un' che sia a me sembra un' snoto il se questo è un semafero strisce pedoni lì l'ho detto mentre lo stavo scrivendo quindi avrigeri ha indovinato anche se non me l'ha dato mai perché non so scrivere albero foglia cos'è caso foglie come fanno ad essere 100 lettere che s'appuio di rose a caso vabbè così non puoi non indovinare l'ha letteralmente piazzato il soggetto della build ma io che cosa l'ho fin dall'inizio no la cosa bella è che io non ho acquistato black war per il mio volere perché mi hanno lasciato solo a me ogni volta su tutti i server in cui vado mi lasciano sempre solo a me quindi riesco per acquistare non mai ho capito quanto rimango solo io acquisto se qualcuno c'esse compagna io non giocherò di più poi ho anche fatto un saltino dal dentista che dovevo levarmi un molare così la storia di cronaca l'ho sei tu in sei tu pare di rimentare FK no ship non è una pecora questa può essere una pecora è un anello chi ha lì quelle che dovrei indossare effettivamente magari perché io non me li metto io quando sono al pc lì solo mi metto gli occhiali da cosa appare il bannatore seriale di youtube di ipixel è appena entrato una mia sconoscenza un'altra partita non è che ne abbia tanta voglia al momento una pausa e torno beh per questo video è tutto 13 minuti di gestione mi sa che mi bastano se voglio faccio un'altra partita d'accordo per tutto e ci vediamo alla prossima ciao che peina out ciao ciao